Rolex C-Dweller Acciaio e Oro, fusione di eleganza e robustezza. Il Rolex C-Dweller Acciaio e Oro è un esempio straordinario di come l'orologeria di lusso possa coniugare l'opulenza dell'oro con la resistenza dell'acciaio inossidabile. L'uso dell'oro 18 carati per la cassa e il bracciale aggiunge una dimensione di eleganza e prestigio, distinguendo questo orologio dai modelli convenzionali. L'oro, noto per la sua lucentezza e inossidabilità, conferisce un tocco di lusso senza tempo a questo orologio, rendendolo perfetto per le occasioni più formali. La lunetta girevole unidirezionale, arricchita da un disco in ceramica nera, offre non solo una resistenza eccezionale all'usura ma anche una leggibilità ineguagliabile in condizioni estreme. Il Rolex C-Dweller Acciaio e Oro, come tutti gli orologi della linea C-Dweller, è stato progettato per offrire prestazioni subacquee di alto livello. La valvola per l'elio è un elemento chiave che consente di rilasciare la pressione accumulata durante le immersioni profonde, preservando l'integrità dell'orologio. La sua resistenza all'acqua fino a 1220 metri garantisce che possa sopportare le sfide più estreme dell'ambiente subacqueo. La combinazione di materiali di alta qualità, una valvola di elio innovativa e una resistenza all'acqua eccezionale posizionano il Rolex C-Dweller Acciaio e Oro tra gli orologi subacquei più affidabili e prestigiosi al mondo. Questo orologio è la scelta ideale per i subacquei esperti che cercano un compagno di fiducia nelle loro avventure subacquee. Rolex è sinonimo di precisione, qualità e stile, e il Rolex C-Dweller Acciaio e Oro è un testamento tangibile di questi valori. Questo orologio è un risultato di anni di perfezionamento, ricerca e innovazione, ed è un esempio della dedizione di Rolex all'arte orologera. Oltre alle sue capacità subacquee, il Rolex C-Dweller Acciaio e Oro è un orologio di estrema versatilità. Grazie al suo design elegante e funzionale, può affrontare avventure subacquee e adattarsi perfettamente a eventi formali. È un orologio che abbraccia uno stile di vita attivo, ma che può anche completare un look sofisticato con eleganza e raffinatezza. Che tu sia un subacqueo esperto o un appassionato di orologi che cerca un pezzo straordinario, il Rolex C-Dweller Acciaio e Oro offre un'esperienza unica e indimenticabile. La sua affidabilità in condizioni estreme e il suo design iconico lo rendono una scelta senza eguali per gli amanti dello stile, delle prestazioni e delle avventure uniche.